Oggi parliamo della riforma del codice della strada. Fermi tutti, qualcuno dirà che insomma se ne parla da diversi decenni e per certi versi è proprio così, doto che il testo spesso rimbalza tra un ramo del Parlamento e l'altro, ma c'è stata un'accelerazione in queste ultime settimane e la riforma dopo essere finita la Camera e poi per poi tornare indietro alla Commissione dei Trasporti è pronta per essere ridiscussa nuovamente in uno dei due rami appunto del Parlamento. Noi vi riveliamo in anteprima quali sono alcune novità di quello che di fatto potrebbe cambiarci radicalmente la vita nel nostro approccio con la strada. Innanzitutto attenzione perché la riforma del codice della strada porterà a un aumento in maniera consistente dell'ammontare, della somma da versare per chi guida con il cellulare. Ebbene sì, fino a 2.588 euro di multa per chi guida distratto sostanzialmente con il cellulare in mano. Ma è solo una delle tante novità. Abbiamo anche gli attraversamenti pedonali rialzati o illuminati, questo per tutelare ulteriormente il pedone e in qualche modo per sensibilizzare ulteriormente l'automobilista per il fatto che il pedone avrà sempre la precedenza. Poi abbiamo il contrassegno rosa per donne in gravidanza e questo lo andremo a approfondire più avanti. Ma ci sono insomma delle nuove, delle novità per quanto riguarda appunto le mamme e per quanto riguarda le donne appunto in gravidanza. Mamme con figli, ve lo anticipo, fino a 24 mesi, quindi appena nati sostanzialmente. Poi abbiamo l'obbligo di casco a proposito di bambini, obbligo di casco in bicicletta per bambini sotto i 12 anni, casco ovviamente regolamentare, ma non è l'unica novità che riguarda appunto i più piccoli. E poi attenzione all'ultimo punto che vi anticipiamo insomma in questo primo cartello, e cioè traffico limitato, nelle zone del traffico limitato i veicoli ibridi non potranno più circolare, potranno invece circolare le auto elettriche. E allora andiamo ad approfondire subito questo aspetto della guida con il cellulare. In asprimento sanzioni e sostanzialmente forse vi darà anche un po' pastidio vedere sanzioni, ripetuta la parola sanzioni ripetuta tre volte, infatti abbiamo usato anche la faccina che urla, come dire ci rendiamo conto che non è che sia proprio una parola simpatica, ma è per farvi capire che cosa cambia e quanto cambia la portata del cambiamento della sanzione, della contravvenzione per chi dovesse essere sostanzialmente preso, colto, mentre guida con il cellulare in mano. La prima sanzione va da 422 a 1.697 euro di multa, non soltanto, abbiamo anche 5 punti in meno sulla patente e la patente sospesa per due mesi. Seconda sanzione, in che senso? Beh, se si viene colti un'altra volta all'interno del biennio, con il cellulare in mano dopo aver subito la prima sanzione, scatta la seconda sanzione ed è decisamente più aspera della prima. Si arriva fino a, come detto, 2.588 euro di multa, 10 punti in meno sulla patente e la patente che viene sospesa fino a un massimo di tre mesi. Come vedete, insomma, le cose sono cambiate, sono cambiate in maniera importante, o meglio, cambieranno, perché, come detto, il testo non è ancora stato approvato definitivamente, ma queste sono le novità sostanziali. Andiamo avanti, perché l'attraversamento pedonale è un altro degli aspetti più importanti di questa riforma. Allora, partiamo da qui, partiamo dal minimo di tre secondi per il giallo. Questo in qualche modo tutela l'automobilista, perché spesso ci sono degli autovelox che scattano non appena un'auto passa col giallo, ed è un giallo che dura troppo poco. Quindi questo è un provvedimento, diciamo, a favore degli automobilisti. Ci sono stati anche diversi casi, insomma, in Italia, di comuni o di paesi con questi semafori piuttosto, insomma, scomoli da questo punto di vista. Ma non è finita. Attraversamento pedonale rialzato. In realtà i comuni potranno scegliere il tipo di tutela dei confronti del pedone davanti alle strisce pedonali o anche a fronte di un semaforo. L'attraversamento potrà anche essere illuminato, ad esempio tramite sensori, o anche colorato, per appunto mettere ancora più nella testa dell'automobilista che il pedone va tutelato e va rispettato. E poi, lo dicevamo prima, il traffico limitato, la circolazione all'interno delle zone in cui il traffico è limitato, specie nelle zone del centro delle grandi città, cambia. I veicoli ibridi non potranno più circolare, mentre invece circoleranno le auto elettriche. Questo è un incentivo, ovviamente, un ulteriore incentivo per l'automobilista per l'acquisto, appunto, di automobili elettriche. Nel primo punto abbiamo visto, nel primo cartello, abbiamo visto che ci sono novità anche per quanto riguarda i più piccoli e per quanto riguarda le mamme. Ed è proprio così, contrassegno rosa, anche del contrassegno rosa se ne parla da diverso tempo. Di che cosa si tratta? Si tratta di ulteriori tutele per le donne incinte e per mamme di bambini sotto i 24 anni, ad esempio con soste, con aree di sosta dedicate, con cartelli, insomma, con una nuova cartellonistica in cui si sensibilizza, appunto, l'automobilista a rispettare e a dare la precedenza, sostanzialmente, a chi ha il contrassegno rosa che verrà attaccato sull'automobile. Bambini, casco per loro, in bicicletta sotto i 12 anni, un casco omologato, ovviamente. E poi un'altra novità che riguarda i bambini, cinture a bordo delle scuola bus. Attenzione, perché stando a quanto riportano le anticipazioni sul testo, ci saranno le cinture a bordo degli autobus, ma i bambini non sarebbero obbligati ad allacciarsi la cintura. Questo è un aspetto un po' discutibile, ma ovviamente, insomma, la speranza è che poi nell'iter parlamentare questa cosa venga in qualche modo risolta. Un ultimo aspetto della novità, insomma, di questa rivoluzione che riguarda il codice stradale, è un aspetto abbastanza a cuore, che sta abbastanza a cuore dell'automobilista, e cioè il parcheggio e il divieto di sosta. Beh, insomma, ci sono delle novità importanti. Innanzitutto obbligatorio il preavviso della multa sul parabrezza. Ultimamente ci capita di magari ricevere una multa a casa senza aver mai visto nulla sul parabrezza. Allora ci si domanda, ma dove ho preso questa multa? L'avrò presa lì? L'avrò presa qua? Beh, insomma, adesso c'è l'obbligo per la gente che effettua la contravvenzione di inserire il pezzo di carta sostanzialmente sul parabrezza in modo tale che l'automobilista può pagare entro i cinque giorni la multa ridotta. Attenzione poi, perché da qui forse cominciano un po' i guai, lo diciamo col sorriso. Due punti in meno sulla patente per chi sosta in area per auto elettriche. Quindi non solo la contravvenzione, ma anche due punti in meno. 4 punti in meno e fino a 673 euro per chi sosta negli spazi riservati ai disabili, per i quali ci sono anche, anche in questo caso, ci sono delle novità interessanti che magari approfondiremo in un'altra delle nostre pillole informative. E poi, questa è un'altra novità interessante, se un passeggero non allaccia la cintura durante un tragitto, non solo verrà punito appunto il passeggero, ma verrà punito anche il conducente, multa anche al conducente. Queste sono le novità di quella che sarà la riforma del codice della strada, che, come abbiamo detto in apertura, inevitabilmente andrà a cambiare radicalmente le nostre abitudini, nella nostra percezione e nella nostra guida per la strada.